Mi piacerebbe talvolta sentire dire che una certa proposta di spesa non è accettabile perché è contraria ai principi fondamentali di chi governa, del partito, della coalizione dei partiti che governano. Ora io in un anno ho sentito magari scartare proposte di spesa ma mai con un riferimento di questo no perché non è in linea con i nostri principi fondamentali. Correbbe chiarire quali sono i principi fondamentali che demarcano in qualche modo l'area di competenza delle pubbliche amministrazioni rispetto alle cose che le pubbliche amministrazioni invece non dovrebbero fare. I nomi e cognomi di chi impedisce dei gufi? No vabbè adesso questo qui ovviamente non posso rispondere. Sarebbe troppo lungo come diceva fermate. Diciamo che sarebbe troppo lungo quindi non comincio neanche.